Cari amici buonasera, presentiamo il convegno nazionale della Polizia Locale d'Italia che si tiene a Sulmona. Sono anni che noi seguiamo questo convegno, anzi siamo alla ventunesima edizione del convegno. Quali sono gli obiettivi del convegno? Diciamo subito il miglioramento della qualità professionale, della preparazione professionale del Corpo di Polizia Locale d'Italia. E con me in studio c'è Michele Sabatini, il dottor Michele Sabatini, presidente regionale Abruzzo dell'associazione e anche il direttore del convegno. Buonasera Michele, io devo partire subito. Partiamo subito. Come si presenta questa ventunesima edizione del convegno? Allora, il convegno già da l'iscrizione che stiamo avendo da tutte le parti d'Italia, dal nord fino al sud, anzi mi ha in certo qual modo fatto piacere che abbiamo parecchie iscrizioni dalla Sicilia in modo particolare. Quindi questo fa capire l'importanza che ha raggiunto questo convegno proprio a livello nazionale, che dopo Riccione è il convegno più importante d'Italia. Non ce lo diciamo noi, ma lo dicono i numeri e anche la storia del convegno. Ecco, vediamo adesso il titolo, che è importante perché il titolo è il filo conduttore. Il titolo è importante anche perché poi racchiude nel titolo stesso anche quelle che sono poi le stesse sessioni di lavori, ma in particolare una in modo determinante. Il titolo è il decreto sicurezza urbana e la centralità del territorio, potere dei sindici e il ruolo delle polizie locale. Perché questo? Perché c'è stato il decreto sicurezza urbana che è stato emanato a breve con una legge, la legge 48 del 2017, che in qualche modo cerca di rimodellare quello che è l'intesa e l'integrazione tra i sindaci, quindi le polizie locale, i questori e quindi le forze di polizie dello Stato. Ci si riuscirà oppure no? Poi si dice il futuro che ce lo dirà e ce lo fa capire, vedremo. Anche perché in passato già abbiamo avuto un decreto simile, il decreto Maroni di qualche anno fa, che ho l'impressione che questo è un po' il clono di quello stesso decreto, che non è stato mai poi attuato in modo determinante. Quindi anche il tema sarà trattato da due relatori importanti, uno con un taglio politico, il dottor Antonio Ragonese, che è responsabile di sicurezza, protezione civile e polizia locale del Lanci. E poi c'è l'aspetto operativo che investe la polizia locale, che lo tratterà il dottor Balduino Simone. Certo, che viene spesso e quindi è lì che poi vediamo di capire meglio quali sono gli obiettivi veri di questo convegno e le criticità che poi avremo nel applicarlo. Sicurezza è un termine oggi estremamente importante nelle città, per fortuna l'Italia è immune almeno al momento, anche oggi purtroppo c'è stata una strage, questo sta accadendo molto frequentemente, quindi anche la polizia locale è impegnata a cercare di prevenire e mettersi in guardia. Certamente, in particolare nelle città metropolitane hanno creato anche dei gruppi specifici. Una cosa volevo dire, voi chiarite anche qual è il ruolo del sindaco nei confronti della polizia locale. Io credo che la polizia locale sia il braccio destro del sindaco, perché la polizia locale è la mano forte del sindaco, senza la polizia locale il sindaco potrebbe fare ben poche cose. Ne parleremo poi eventualmente al convegno, quando ci sarà sicuramente il sindaco di Sulmona. Bene, andiamo avanti. Diciamo dove e quando si farà. Allora, il convegno, come abbiamo già detto, è il ventunesimo convegno nazionale della polizia locale. Si terrà a Sulmona, presso la sala convegni Parco Nazionale della Maiella, che sarebbe l'abbazia celestiniana nella località Batia, il giorno 26 e 27 maggio 2017. Si articolerà in due sessioni di lavoro, una il venerdì 26 maggio 2017, che verte in modo proprio particolare sulla sicurezza urbana, codice della strada, commercio e polizia amministrativa. Poi il giorno 27, praticamente avremo un'altra sessione, sempre mattutina, che verterà sull'ambiente l'edilizia e il riordino istituzionale della polizia locale. Per i relatori abbiamo già parlato, lei l'ha già accennato, ma vorrei un attimo che lei mi dicesse l'impegno che avete per i relatori, perché io credo che un convegno è un convegno importante se ci sono relatori importanti. E poi mi pare che in questi anni che io vi ho seguito da tanto tempo, avete sempre invitato relatori di un certo campo. Noi abbiamo avuto relatori di uno spessore nazionale e alcune volte anche internazionale, perché abbiamo avuto relatori che sono esperti di criminologia a livello internazionale e sono venuti sempre a Sulmona e questo lo devo dire sempre in modo amicale. Cioè si è creato nel corso degli anni, perché è il ventunesimo, quindi una forma di amicizia, ma non l'amicizia con Michele Salvai, ma in particolare con la città di Sulmona e anche con l'associazione. E con l'associazione ovviamente. Allora parliamo dei partecipanti, naturalmente sono tutti uomini e donne, parliamo perché ci sono molte donne adesso, che partecipano al convegno. Quanti sono i partecipanti più o meno adesso e da dove vengono? Allora, i convegni si sono un po' trasformati rispetto a quelli che erano i convegni di una volta, quindi le masse come una volta non si riesce più, ma si dice, a portarli nel convegno stesso. Quindi si deve puntare molto sulla qualità e soprattutto puntare, anche perché il problema dei numeri è legato anche al fatto della crisi che hanno pure i stessi comuni, tuttora. Io mi ricordo i primi convegni si beneficiavano delle emissioni per venire ai convegni, mentre oggi chiunque arriva, arriva a proprie spese, cioè sono loro che affrontano queste spese. Poi quando riguarda la provenienza già dall'iscrizione che abbiamo avuto, come già ho anticipato, abbiamo delle presenze dalla Sicilia, Puglia, Umbria, Trentino, quindi i locali, ovviamente, ancora pochi si sono iscritti, quindi gli invito a venire, però si possono iscriversi anche all'ultimo momento, anche perché chi viene da lontano deve anche prenotare tutta una serie di cose, hotel, eccetera. Io volevo portare un po' l'attenzione su un fatto molto importante, le ditte espositrici che vengono sempre, io ricordo, numerose e che costituiscono veramente il fondamento economico di questi convegni, perché poi per quel che mi risulta non avete danaro pubblico, no, no, 21 convegni noi abbiamo avuto mai, forse qualche volta, qualche volta, sì, ma raramente, ma gli ultimi... Lavorate sempre con le ditte espositrici che sono gli sponsor, come va adesso negli ultimi tempi? C'è qualche difficoltà? Allora, negli ultimi tempi ci sono difficoltà, perché la crisi economica l'hanno risentito tutte le ditte, comprese gli sponsor nostri, quindi diciamo che quella fiera che noi riuscivamo fino a tre, quattro anni fa, addirittura all'adere del convegno, creare una fiera espositiva, adesso c'è difficoltà a coinvolgerli, anche perché alcuni di questi ditte addirittura hanno chiuso, proprio per l'aspetto che hanno chiuso e che fallite, quindi... E questo per noi è un problema, perché ogni anno diventa sempre più difficile organizzare... Avete meno soldi, abbiamo meno soldi, quindi... E questa è purtroppo la situazione, allora... Però non demordiamo, quindi riusciremo avanti, sì, sì... E parliamo di questa associazione, associazione professionale di polizia locale d'Italia, è un'associazione, non è un sindacato, cari amici voi che ci state seguendo, non è un sindacato, è un'associazione professionale. Diciamo quali sono gli scopi. Ah beh, la stessa cosa, proprio il te associazione professionale... Lo dice, no? Che in qualche modo l'obiettivo nostro è quello di elevare la professionalità dell'operatore, della polizia locale, anche perché solo così si può essere sempre presente e in più presente in quello che è il contesto del territorio e stare sempre a disposizione dei cittadini in un modo, diciamo, professionale. Questo è proprio lo scopo, non è che ce ne sono, diciamo, altri. C'è la difesa dell'operatore, no? Quello è il compito del sindacato. Io mi permetto, a parte la difesa economica o, diciamo, di statuto o di altro, la preparazione professionale. Questo è l'obiettivo che ci è sempre posto. Io vi ho seguito da molti anni, potrei fare anche io il concorso di video urbano, insomma, sono sicuro di vincere. Ma questa è una cosa importante, perché poi questi convegni che noi in tutta Italia ne facciamo, di quelli importanti due e tre, tra cui quelli sul mondo, ma le giornate di studi, seminari, di cui uno ultimamente l'abbiamo avuto pure a Raiano, ne facciamo un centinaio. E questo sostituisce anche quello che è l'impegno che dovrebbero avere gli enti, i comuni stessi e o la regione, a professionalizzare i propri dipendenti. Quindi noi ci sostituiamo anche all'ente stesso. Quindi dove c'è carenza dell'ente c'è il soggetto proprio, il corpo che si muove, sono gli uomini e le donne che si muovono per conto proprio, con poche risorse, e riescono a migliorare la loro capacità. Questo è un vando proprio per la categoria, un vando, sì, che fanno i sacrifici. Dobbiamo darvi merito di questo. Io volevo invitare la nostra regia a inquadrare la statuetta di Uvidico, abbiamo qui davanti Sabatini, sa perché la voglio fare, perché questa statuetta è stata e opera di alcuni ragazzi cosiddetti diversamente abili, che sono forse più abili di noi a fare certe cose. Stanno facendo molte statuette, ecco se l'operatore riesce a inquadrarla meglio, questa statuetta in primo piano, ecco, bravo, ecco, va benissimo così, e allora stanno lavorando, lei sa bene che adesso siamo nell'anno ovidiano, è il primenario di Ovidio, dobbiamo ricordare in tutte le maniere, e loro a pieno titolo vogliono partecipare a queste giornate, a quest'anno di Ovidio e hanno realizzato una serie di statuetta, anche quelle più piccole, ci sono queste più grandi, le danno in giro, diciamo, non le vendono, però se qualcuno vuole dare un'offerta e vuole ricordare bene Ovidio, tenerlo in casa, perché Ovidio è il nostro grande padre, insomma, di tanti anni fa e dobbiamo anche rispettarlo in questo modo, lo può fare, può rivolgersi direttamente al direttore. Ma io non so se si fa in tempo, ma noi possiamo anche magari dargli un spazio espositivo, benissimo, vediamo uno spazio espositivo e quindi date che vengono da tutte le parti dell'Italia, sono contento di questo e saranno contenti quei ragazzi che hanno bisogno del nostro sostegno, del nostro aiuto, queste statuette, praticamente lì è diventata una fabbrica di Ovidio, ci sono centinaia di statuette purtroppo immendute che sono lì in magazzino, E questo può essere un'occasione? Un'occasione anche propizia, io voglio solamente e velocemente dire che questa statuetta si può trovare nella tabaccheria sotto i portici di Corsovidio al numero 259, oppure confetti Ovidio sul Mona in Corsovidio a 205, angolo piazza 20 settembre, il Capriccio di Silvia, altro negozio, in Corsovidio 56, chi vuole può dare un piccolo contributo e avere in mano un ricordo tangibile di questo nostro grande poeta di cui parliamo in quest'anno. Allora Sabatino, vi direi di concludere, ricordiamo ancora una volta dove si fa il convegno e la data. Allora, io faccio un appello a tutti i colleghi, praticamente di arrivare in massa, sperirei, possibilmente. Il convegno quindi si terrà il 26 e il 27 maggio corrente anno presso la sala convegno che è il parco nazionale della Maiella e quindi sarebbe, come abbiamo detto prima, l'abbazia celestiana, l'abbadia, insomma, la località abbadia. Quindi vi aspettiamo tutti. Bene, cari amici, possiamo concludere qui, grazie per averci seguiti, buonasera. Grazie per aver guardato il video.